Sì, è una rapina, dovrebbero, senti, c'è una banconota però mi piace contare, comunque. Però 20 euro alla fine non è tanto, non è tanto, c'è per 14 giochi, c'è un gioco io lo pago così tanto. Ma sei inefficiente. Ma io ho fatto finta che non fosse successo niente. Ho fatto finta che non fosse successo niente, ho continuato a parlare normalmente, c'è non... Sono inefficiente. Sì, è sentito il ritorno dal suo portatile. È la Madonna! Ha un'aura potentissima. Non hanno ucciso un tacchino, hanno ucciso il tacchino, il tacchino finale. Ha un'idea di cosa fare perché ho solo più domani, perché sono tornato oggi e ho solo più domani per farlo e probabilmente sarà un salve, un saluto a voi e a famiglia. No, vabbè, ma questo... Questo era... Proprio il... Ma dai... Eh, ho fatto il suono del treno che parte l'altra volta. Ma che ne so, 20 problemi devo avere. Allontanarsi dalla linea gialla. Però ho 20 euro, vabbè. L'altro, vabbè, in cappare dalla linea di frattura. Oh, vabbè! No, vabbè! Nampagata! Nampagata! No, vabbè! Allontanarsi dalla linea delle caratteristiche. L'altro, vabbè! Ah! Un'flipp! 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 Nampagata! Un'flipp! Grazie a tutti.